ok ragazzi ti sceggo carica carica manetta fallo per la diana ma c'entra la diana ciao diana via dai dai corri corri via via dai bubi dai cacchio che ci sei dai che ce la fai dai corriamo io ti sceggo niente noi corri ciao Sara beccati questa dai pupi dai diamo via uno due tre dai pupi uno due tre via 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 come è andata via 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 Grazie a tutti